Sergente, ci sono ordini! Occhio! Una mitragliattrice nemica, là! Occhio! 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 Cosa! Occhio! Ricognitore! Più veloce che puoi! No! 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 Return to the combat area. No! No! Come the wind! We have taken objective butter. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. Return to the combat area. No! No! Hop! Hop! Come on! Come on! Come on! Sì. Corri! Conquistiamo quell'obiettivo! We are losing objective apples. Conquistiamo quell'obiettivo! Restiamo! 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 Return to the combat area. più veloce che puoi non ma non ma 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 non ma 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 il He's under the unit! Return to the combat area. RETURN TO THE COMBAT AREA WE HAVE LOST OBJECTIVE APPLES RETURN TO THE COMBAT UP MAYBE THE CAR RETURN Grazie a tutti.